La Guardia di Finanza di Fano ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 70.000 euro del denaro presente nei conti correnti bancari e di altri beni nella disponibilità di un sessantenne che ha messo a fatture false negli anni del 2015-2016. L'uomo, che è il rappresentante legale di una ditta che opera nel settore delle costruzioni meccaniche con sede a Fano, ha consentito ad altre due società delle Marche di ottenere un risparmio d'imposta e di detrarre l'IVA in quattro fatture in modo illegittimo per oltre 170.000 euro. In particolare, la minuziosa attività ispettiva svolta dalle fiamme gialle ha consentito di scoprire che le fatture erano state emesse prima che la società ottenesse l'assegnazione della partita IVA. Inoltre, le aziende che si dovevano occupare della rigenerazione del macchinario, oggetto dei documenti fiscali, non avevano né gli stabilimenti in grado di ospitare il bene né i dipendenti in grado di operarci. Infine, è emerso che il prezzo ottenuto dal titolare della società pesarese per il servizio reso è stato di 70.000 euro, pari alla differenza tra il denaro accreditato sul conto corrente e i bonifici eseguiti come ritorno. Così, il giudice per le indagini preliminari di Pesaro, che ha accolto l'attesi della procura, ha emesso il decreto di sequestro preventivo per denaro e beni fino all'importo del profitto del reato realizzato con la condotta illecita.